Si è spento oggi in una clinica a Verona a seguito di problemi respiratori per difficoltà polmonare antiche Monsignor Pio Vittorio Vigo, arcivescovo vescovo emerito di Acireale. Abrebbe compiuto 86 anni a novembre. Nato ad Acireale il 4 novembre 1935 fu ordinato sacerdote il 20 settembre 1958. Conseguito il dottorato in filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, rientrò poi nella diocesi acese. Insegnò filosofia presso il seminario vescovile e religione nelle scuole statali. Il 13 gennaio dell'81 fu nominato vescovo titolare di Astigi e ausiliare dell'arcivescovo di Catania Monsignor Domenico Picchinenna. Il 7 marzo dell'85 è stato nominato vescovo di Nicosia, il 24 maggio del 1997 arcivescovo metropolita di Monreale e infine il 15 ottobre 2002 arcivescovo vescovo di Acireale sino al primo ottobre del 2011. Monsignor Vigo è stato anche un fine poeta premiato più volte in concorsi nazionali. Ha dispensato anche nei versi la bellezza del Vangelo e della vita cristiana. Il presule era molto noto anche per i cittadini del nostro comprensorio. Più volte infatti ha partecipato a diverse celebrazioni. A Biancavilla il 28 aprile del 1987 ha partecipato alla tumulazione della salma di Monsignor Francesco Ricceri all'interno della Chiesa Madre insieme ad altri vescovi provenienti dalle diocesi siciliane. Il 29 agosto del 2004 ha preseduto la Santa Messa della festa estiva in onore alla Madonna dell'Elemosina celebrata sul Sagrato della Basilica. Sono particolarmente lieto di vivere con voi questo momento di preghiera e intensità di fede perché mi date l'occasione di ripensare alla misericordia del Signore che ha voluto con Maria porre la sua dimora in verso a voi. Monsignor Vigo nel 2015 in occasione delle celebrazioni nel centenario della nascita di Monsignor Giosuè Calaciura ha concelebrato una Santa Messa in Chiesa Madre. Il 13 novembre del 2016 sempre a Biancavilla ha preseduto la Santa Messa conclusiva del Giubileo della Misericordia. A Paternò è stato presente durante la festa dell'esaltazione della Santa Croce il 16 settembre 2012. Dopo il corteo religioso partito dalla Chiesa Santa Margherita ha celebrato all'aperto la Santa Messa in Piazza Indipendenza. Il mistero della croce è un mistero che ci tocca particolarmente perché ci fa soffrire ma abbiamo come punto di riferimento Cristo Gesù e Maria Santissima. È un percorso della croce obbligatorio. Il Padre Celeste non l'ha risparmiato neppure al suo figlio. Maria Santissima ci accompagna in questa via dolorosa della vita. Profondità di vita spirituale, bontà, mitezza e semplicità sono stati i tratti caratteristici della sua personalità da tutti riconosciuta.